Poco tempo per farle, pochi minuti per cuocerle ed un attimo per mangiarle. Frittelle di carnevale, mamma mia, mi fanno impazzire, troppo buone. Una versione più leggera, le ho fatte al forno, guarda che belle che sono. E allora uova e zucchero le vai a montare con le fruste fino a farlo diventare spumoso. Dopo gli aggiungi una bella grattugiata d'arancio, il latte e un cucchiaino di rum se vuoi, oppure se ce l'hai. Dagli una bella mischiatina e aggiungi le farine setacciate dal basso verso l'alto, piano piano prima e energicamente dopo. Adesso dai una pulitina con la spatola e guarda come deve venire. Ho comprato questi, un fiorino e poco di più li ho pagati, degli stampini piccolini, rosa, troppo carini. Andiamo a farcire fino a un terzo, non troppo, se no dopo in forno scoppiano perché andranno a crescere. Guarda quanti ne ho fatti e allora butta dentro che ci mettono un attimo. Intanto sai cosa devi fare? Ci devi pensare, ma pensaci per bene. Ci hai pensato? E allora vai a controllare. Stanno crescendo? Guarda che belli che sono. Sono pronti. Dopo averli sformati li metto nel piatto e abbondante zucchero a velo. Profumo in tutta la casa.